Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video di pesca vi faccio vedere questi bei pesci che ho pescato a Vesima. Questi cefali, questo bello, sui quattro etti, questi due un po' più piccoli, e poi questi altri pesci. Un tordo, un'occhiatella, due salpe, due cifaletti, un sarachetto, una donzella, uno sciarrano, due tordi e un altro tordo. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao. Tutto questo ovviamente con la fiocina presa a Vesima. Ciao ciao.